Ciao a tutti, oggi mi è stato richiesto ancora in privato come scaricare i disegni gratuiti che vi danno quando comprate la Cameo e molti di voi ancora non sa come farle scaricare quindi oggi ho deciso di fare questa guida, questa piccola guida proprio per farvi vedere che è molto semplice inserire il codice e scaricare i disegni. Quindi aprite il vostro software e andate in negozio, vi apre la pagina dello store di Silhouette, andiamo sul nostro nome, se non vi siete loggati, loggatevi, per chi non si fosse iscritto bisogna iscriversi comunque al sito della Silhouette America. Quindi andate sul vostro nome e cliccate su My Account e vi trovate questa facciata qua, qui ci sono diverse voci, Quindi quello che a noi serve ora è andare in questa voce qua per inserire il codice che ci è stato mandato in mail. Una volta vi ricordo che il codice era una card ed era inserita proprio nella scatola, mentre adesso ve la manda al momento della registrazione. Quindi andate su questa icona qua, qua dobbiamo inserire il nostro codice, io ora non ho un codice di una card perché le ho già usate. Una volta che avete inserite dovete fare applicard. Io adesso provo a mettere qualcosa di strano ma non credo che mi faccia entrare. Dovrebbe essere 16,2,3,3,3,3,3,4,3. E fate applicard. Infatti in questo caso mi dice che non è valida. Quindi una volta che avete fatto applicard vi mette in questa voce qua il totale del vostro saldo che avete per scaricare i disegni. Credo che in questo caso sia 25 dollari ma non mi ricordo di preciso. Comunque avete qua e dopo che vi trovate la cifra qui non fate altro che andare nella pagina del design e scaricarvi quello che vi serve. Ricordatevi che avete un mese di tempo per scaricare. Terminato questo mese se non avete usato tutti i soldi purtroppo vi azera e perdete la rimanenza che avevate. Quindi vi consiglio di guardare bene dal momento che mettete il totale che non vi scada il mese. Spero di essere stata abbastanza chiara. Io purtroppo non avevo una card da farvi vedere. Ah un'altra cosa. Una volta che vi scaricate i disegni mi raccomando ricordatevi che va nel cloud. Se io vi faccio vedere. Scusate, libreria. Andiamo. Qui vi dice che caricherà tutti gli acquisti che sono accessibili anche su altri dispositivi. e si può memorizzare tutti i disegni anche creati da noi nel cloud. Basta dargli comunque l'input di andare nel cloud. Per il resto quello che scarica invece automaticamente va qua. Mi raccomando, guardate bene. Poi ho fatto anche un video a proposito di questo cloud. Dovete sempre loggarvi. Per loggarvi nel cloud dovete cliccare qua. Vedete si apre questa finestra. Se non vi si apre dal di qua andate qua su. E qui mettete la vostra password. Io ora non la metto perché non devo entrare. Una volta che avete messo la password qui si apre. Bene, come ho detto spero di essere stata chiara, abbastanza chiara per questo piccolo video. E fatemi sapere. Ciao, al prossimo. Grazie. Grazie.